Salve ragazzi e benvenuti a un nuovo tutorial sul linguaggio di programmazione java. Continuiamo a parlare di file json e questa volta affrontiamo la scrittura di un file json contenente più oggetti o più record. Nello specifico vedremo come avviene tecnicamente la scrittura all'interno del file. Supponiamo di avere questi due record chiamati studente con la struttura che abbiamo già visto comunque nel precedente tutorial. Il cognome nome età è un array di lingue, lingua 1, lingua 2, lingua 3. Di questi record ne abbiamo due o volendo anche più di due. Cosa succede? Creiamo un oggetto che ho chiamato anagrafe all'interno del quale andiamo a inserire il cognome, il nome e l'età. Allo stesso modo creiamo un array chiamato lingue dove andremo a depositare le tre lingue o attraverso l'assegnazione di uno string oppure attraverso anche l'input o la lettura da altro file. Questo array lingue andrà a depositarsi all'interno di anagrafe. Ancora l'intero record chiamato anagrafe verrà depositato dentro un altro oggetto chiamato studente. Allo stesso modo creeremo il secondo oggetto, il terzo e così via. Avremo quindi degli oggetti tanti quanti sono il record. Questi oggetti andranno a comporre un oggetto che io ho chiamato completo e che quindi verrà registrato sul file json. Per quanto riguarda la lettura procederemo in modo analogo alla lettura di un unico record solamente che inseriremo un ciclo visto che il record sono più di uno. Andiamo a vedere la codifica. Ho creato il mio progetto. Vi ricordo che dovete inserire all'interno del progetto in proprietà librerie il vostro json simple. Preferisco farvi vedere il codice anziché compilarlo di nuovamente per non perdere molto tempo. D'altra parte la base l'avete vista nel precedente tutorial dove andavamo a registrare un unico record. Tre classi, il main, lettura del file json e scrittura del file json. Andiamo a vedere come ho portato avanti la teoria fatta vedere poco fa. Ho assegnato all'interno di una stringa il nome del file e l'ho chiamato file json. Quindi all'interno delle mie cartelle avrò un file json.json. Ho creato l'oggetto anagrafe con json object anagrafe uguale new json object e dentro ho messo il cognome, il nome e l'età. Vi ricordate abbiamo fatto la stessa cosa nel singolo record. La stessa cosa per quanto riguarda l'array delle lingue dove con l'istruzione elenco punto add ho aggiunto lingua 1 lingua 2 lingua 3. Questo elenco l'ho aggiunto all'oggetto anagrafe con il punto put e la key lingue. A questo punto ho creato l'oggetto studente 1 e al suo interno con l'istruzione col metodo punto put ho creato ho depositato quindi il record anagrafe costituito e l'ho chiamato studente. Quindi facendovi rivedere la slide precedente ho esattamente fatto questo. Quindi ho creato anagrafe, ho depositato i tre campi elementari, ho creato l'array delle lingue, l'ho depositato in anagrafe e poi tutto l'ho messo dentro studente. Ho fatto esattamente questo. Ho proceduto allo stesso identico modo per creare il secondo record oggetto. L'importante è che l'oggetto vedete il primo l'ho chiamato anagrafe, il secondo l'ho chiamato anagrafe 2. La stessa cosa per elenco ed elenco 2. Studente 1 e studente 2. Quindi ho cambiato i nomi agli oggetti. Ferm restando però il nome delle key che come vedete sono uguali lingua 1, lingua 2, lingua 3 e lingue per l'array. E anche qui anche la creazione di studente 1 dell'oggetto ha come chi studente che deve essere uguale al secondo oggetto. Nel caso in cui voi abbiate più oggetti potete crearlo in modo analogo mettendo anagrafe 3, elenco 3, studente 3. Ma ricordatevi che all'interno della key le variabili, i nomi delle key devono essere uguali. Una volta completato tutto quello che riguarda gli oggetti e quindi creo un oggetto che ho chiamato completo al cui interno sono andata a depositare studente 1 e studente 2. Qualora ce ne fossero stati altri avrei messo studente 3, 4, 5 e così via. Dopodichè con un metodo scrivi file json che vedete qua sotto ho predisposto con file writer il mio file alla scrittura ho scritto il file json che ho passato come scusate che ho passato come parametro quando ho richiamato il metodo quindi l'ho scritto ho svuotato il buffer e ho chiuso il file non dimenticate di chiudere il file altrimenti non potrà essere letto. Proviamo il nostro codice e all'interno della scrittura come vedete mi ha registrato questi dati. Vi ricordate abbiamo visto un editor json online lo vado a prendere vado ad aprire il file che ho salvato nuovo apro da disco lo vado a prendere all'interno della cartella che ho creato per il mio progetto qui abbiamo file json vedete due record chiamati studente ogni studente è costituito dalle lingue dei campi elementari questo è il secondo e così via andiamo a vedere come leggere questi dati anche qui all'interno della classe leggi file json ho passato la stringa con il nome del file e ho creato l'oggetto json parser perché vi ricordate che per poterlo leggere occorre utilizzare questa classe sono andata a leggere il file predisporlo alla lettura e all'interno dell'oggetto json parse ho inserito il file così letto con il metodo json p.parse a questo punto ho il mio array completo all'interno dell'array io avrò i due oggetti o gli n oggetti che ho scritto all'interno del file quindi il file viene letto in blocco tutto in una volta attraverso il metodo foreach ho estratto vedete ho richiamato il metodo parse amp object con il quale ho preso ogni record studente con il metodo get all'interno di studente ho preso il cognome con il metodo get sempre il nome e con il json array ho estratto fuori le lingue quindi questo per ogni elemento di studente nel caso in cui voi desideraste avere questo codice potete chiedermelo e ve lo farò avere in sostanza quello che abbiamo visto nel video precedente l'ho ciclato per quanti erano il record inseriti all'interno del file vedete foreach quindi in effetti non è cambiato nulla solamente che si è aggiunto questo ciclo spero di essere stata chiara che il video sia stato breve ma esaustivo e ci vediamo al prossimo tutorial con la memorizzazione invece di un oggetto attraverso la sua classe arrivederci e al prossimo tutorial a presto 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 a presto